Buongiorno Anistia, mi stava pregostando un po' questi tre punti, anche se il secondo tempo è stato un po' di sofferenza, dopo invece un primo tempo giocato con grande personalità. Sì, abbiamo sofferto al secondo tempo una stanchezza fisica, magari ci siamo passati un po' troppo sapendo che loro facevano quel tipo di gioco di cercare la punta alta e magari ci è mancato un po' di esperienza per bloccare un po' questi pali che partivano dall'esterno. Siamo stati un po' ingenui in tante situazioni, quindi possiamo ancora migliorare perché i ragazzi che sono entrati magari potevano dare qualcosa di più, però penso che ci sta il pari con un avversario molto forte come Vicenza. Dalle sue parole vedo un po' di deramare che quasi c'era quasi fatto il bucino. Sui cambi mister, quando ho tolto più per esempio, la squadra ha perso un po' di profondità e un po' di fisicità, è d'accordo o no? Se lo dice lei, dal suo punto di vista ci può stare, però secondo me no, perché è un po' stanco, aveva corso parecchio, poi Castelli è un giocatore che a noi sempre ci dà una mano al secondo tempo, è un giocatore che fa gol, che fa reparto, è veloce come lui, deve migliorare anche lui in certe situazioni del gioco, però ripeto, potevamo fare molto meglio la gestione della palla, secondo me la stanchezza si è giocato un brutto scherzo perché poi non riuscivamo a paleggiare come volevamo, anche se loro hanno alzato un po' la linea difensiva, però ci stava che con due o tre passaggi di fila potevamo arrivare in porta. Troppo fuori gioco, inutilmente fischiati per noi, penso che lì li possiamo migliorare parecchio e pazienza per il pari. Un posto? Grazie.